bene abbiamo iniziato questa sessione perché elena c'entra precistica sia tra l'anello per gindobre brava elena che ha detto gindobre elena ma gindobre elena si fa presto fra poco farà una maglietta gindobre o che lo scrive così gindobre come l'italiano gli ho fatto vedere come si scrive davvero ed è andata in clinica bene iniziamo conto da 5 a 1 lentamente ti connetti in maniera più profonda a elena 5 4 3 2 no dimmi se la vedi avesse che c'è un vicino se la vedo arriva con due enormi bolle d'aria come se fossero le sacche di daria reali sopeva stramata chimiche alchimibank amite che potete portare che un banchi work in apno poviaccia i maier canti e poi finita per ciò sento fabbici scuscia tua ci dà l'autorizzazione dai apposso mania sac rappresentano dice il peso il peso che lei si sente rispetto a tutti i familiari rispetto a tutti quelli che chiedono suo aiuto e supporto tete forchi danni rappresento io ho sempre risposto che c'è un giard per un altro e che c'è come se fosse lei ma schiacciata secondata che può alta casa che ne c'è una c'è una c'è data al peso si ha otto c'è una enorme peso sulla testa che la schiaccia giù quindi dilatata perché premiamo una coperta che perché c'è un sgrignate che un rossi ciongano non ho pochi ok è interferita elena cacca la nama interferenza e per ferita già all'inizio ho visto che come se avesse come se avesse fin dalla nascita una uno scudo su tutto il corpo di energia come se fosse intrappolato in questo scudo il contorno della sua persona questo è un impianto c'è testi in plant no è proprio un programma pesa questa che program quindi quello che ti dicevo ok ci sono impianti c'è stame che c'è in planta si è visti prima ce ne sono allora ne ha uno sull'utero gli aspettiamo trascente in planta e danno smicchiest macizia sui piedi fa in plant e risita basse questo è il coscio uno su una cosa uno su un'altra ora ne ha tre sulla colonna vertebrale semplante una crangoscopia e poi uno più o meno a livello dell'occipite chi sono le entità solo e teri che non mentali c'è stata a terra c'è una nara già ho visto i siriani come seriosa sono sono quelli che li hanno creato questo scudo energetico dalla nascita da vostri ogni spazio di etan panza energete c'è un altro raggiungo qui ci sono sempre sono due che la seguono sempre durante la sua vita e fanno spola da data da questa realtà al sirio io sapete voi cata che non stava attraverso c'è c'è questo nostro amia un stato visto cito attenzione vi stassino serioso prendono le informazioni e poi le portano a sirio a cercare la informazione ogni piano sono note cos'è riuscita in un laboratorio dove raccolgono tutte le analisi di tutte le persone che hanno questo scudo ed ammai a un laboratorio informazioni o potopi ne tocca la nostra tratta smai un tracorata e otan panza facoltà come sono fatti i siriani qual è il dna e come come appaiono gli ecco da contare anche seriani e che mai un dena allora hanno hanno le orecchie un po a punta trascaspecato usa mai o umanoidi hanno le orecchie un po punta e hanno una specie di coda comano i cimai un testo sfruttaio con a vedo solo una protuberanza però non è uguale a nessuna colcia non è uguale alla cosa di un felino non è la uguale alla coda di un dinosauro sostanza stiamo in vestire al ministro anni o con dinosaura anni o con cotto anni ha fatto un'altra poco dopo come se fosse un tubo è che vuota ma questa caro ora aveva fatto un testo e finisce tronco se io sta cauccenta con cisa tra una coda serve per l'equilibrio tutta che sta con sforzata la cima fanno avanti no è tipo come se fosse una spina mi è stata sempre attacchi con la tristanza poi hanno le a come l'avatar il film film avatar che si collegava all'albero a che lei ha visto sì non mi ricordavo questo pezzo si attacca la coda ai pezzi stacchi film era fatta un po controlli se può tempo potenziavano pisa 4 e poi ripetere la domanda luce dove si attacca la coda la coda si attaccava sempre a qualcosa no ultima sì sì però da poco è quello come avatar come avatar dove si attacca la coda ai signori ma un po ovunque quando devono fare devono trasmettere o ricevere un'informazione nuova tra virgolette no con il quanto c'è la scelta costruzione mi sta mi sono già stia che in formazione sta costa un po via raccia come può essere ma come poteva essere in matrix l'aggiornamento nel film matrix sì perché firme matrix tante congevano cioccolatore che è con sciolto valizzazione scattano quindi i dati di software quindi i dati che prendono dalle persone che poi devono trasmettere passano attraverso la coda c'è vita tana che le mobili hanno giocato a tutto sotto strumento il ferro io mi hanno potuto stanno con potenza un papirano la casa è un cavo dati in sostanza ma loro parlano telepaticamente o con la bocca c'è l'età che tank a ball da più casa vagnata rapidamente dna di che tipo sia che maia montena allora allora una parte mantide è una parte celinoide potresti motrice ok poi siriani poi rimane tessere anacto dalle in capa ruia no poi vedo interferenze mentali potenziare lo stracco interferenze mentana aspetta però siriani su presidiani chi c'è alla città esponato di rionami otten basta e poi lucas che dalle lucas ok secondo universo altro che tanto arriva ma lo che ha un po di donna si brava il nome troppo che cosa scelta arriva portaitone prende qualche informazione dal dai siriani cioè da questo programma ma possiede nostro che costruita rovni a sapere fatta san po pracei farmazia texerian troppo giorni proprio vedo proprio come se sono molto attenti a prendere le informazioni perché sanno che ormai è quasi tempo che il loro universo sparisca son partita tra straordinità per animi informazioni poi verso un sicuramente accorso attenzione che c'è stato un po fuori di riconosanica è come se venissero in sordina come piano piano a farsi vedere sclataia non si può voluto e quindi c'è riuscito con l'ex sono facciano benedita non sai in sordina quindi questo è molto male altissimo livello di italiano sono questo no e noi sordina è molto adesso l'hai imparato in sordina perché su sordo si ma rumori sordi quindi sono rumori attutiti no quindi non vuol dire in punta di più in punta di piedi come la pantera rosa e la pantera rosa quando arriva punta di piedi punta di piedi lo sapevi brave dita super brava grande approfittiamo vai traducilo per i polacchi che sei super brava mi stanno facendo dei complimenti per la mia facciamo che c'è stato automatico job in itago job va bene ok siliani vai di entità mentali che sono le più importanti mi sa qua è da terra si chiamano gli strumentali allora ce ne sono tre livello 4 5 6 non possiamo stare pieni 6 allora c'è quella di livello 6 che quella che la fa soffrire di insonnia tans facciamo stas facciamo sostegno testa le fa credere che deve avere sempre tutto sotto controllo quindi non può mollare neanche di notte controllo addirittura deve avere sotto controllo anche la vita e la salute degli altri rovni a 60 chodzi o życie i zdrowi in muslimi sta faccia controllo cazzo mi sta via quindi c'è proprio le metti in testa proprio i pensieri che tutto deve essere programmato prima e deve essere in cana in casellato nel tempo vedo proprio come se gli mandassero dei pensieri vitex pari una croce o mesi perché se così coinvolta ilena è la prima volta che vedi una cosa del genere se la faccia con il testa che non sarsa povano parla spiace video stessa che contac vedo proprio la forma dei pensieri mandano dei pensieri vedo proprio le forme che che fanno nella mente come pensiero vizio france per un carattario fu messo a quest auto e per ogni poi spaventare un certo mesta fammi un esempio il pensiero di occuparsi degli altri quindi occupati il tuo marito che poverino ha bisogno di te tu vedi la forma del marito che passa come pensiero ci riparò di me che si pisa 4 4 4 tata tronza ma non sa c'è difficoltà con il concreto non farò usiamo sia più che faccio 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 ma non sa che avete stacco concreto con si farmo usare da lei no vedo la frase di quel pensiero chiusa in un quadrato dove una parte rappresenta lo spazio quindi questa cosa qui deve essere fatta in quella stanza e l'altro pezzo e l'altro lato è il tempo quindi tra le 10 e le 11 ha trovato la stagna la pistana esa carta che un quadracce il test da costa neanche un più alto che trova tasso a testo testo c'è 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 tra le 11 nella camera da letto devi preoccuparti per tuo marito poi c'è taccato e poi si era scaso la società vita off the meeting off the meeting in cucina a medogiorno penserei a tua mamma poverina che non ti ha salutato quando è morta ma se qua scorni a paurini e poi messi a fare i mammi quando c'è possiamo farlo usata un po sornava ok in cinque l'entità mentale cinque tra stan sposiamo piante con in stato a mentale allora ipocondria la chiamerei proprio ipocondria ho trovato già un esarchi ipocondri tra quanto non spava ipocondria che che collabora con l'entità di livello 4 con sono sfuggita mannaggia rassetta era appena visto mi sfugge la parola aiutare gli altri ok paranoia paranoia del che è tutto dato da energie provenienti dall'esterno su due cose la paranoia che tutto ripena gli altri più ipocondria esatto c'è lì paranoia scopo oggi ottene più stampa già un piante tra che schipo con te li trovarò chiaro ma questo problema tutto ti faccio un esempio dolore alla parte sinistra del corpo ok oddio questa questo dolore ricorrente che ho e c'è sempre che cos'è quindi ansia per il dolore ok e l'entità di livello 4 dice sì devi preoccupare perché è un'energia che arriva da fuori che ti fa venire quel dolore l'entità che c'è quanto tempo dava elena toccano fiù va allenano problemi sulla vostra non triccio etan bull la fai strani ai martis e otto c'è testa progetti ipocondria i potenti parte che facciamo i movimenti e toson problemi e potenza cosi se non c'è stata la nostra misura non c'è mister nocci arriviamo alla 6 va bene un chiaro arriviamo la 6 e per la scopo oggi ma la sposta facciamo quella di quella di livello 6 e quella del di avere tutto questo controllo dopo cinque sessioni con un famoso gruppo che fa sessioni elena è ancora qui con noi e ancora attacchi all'anno un gruppo ma no i natal attacchi rosna guardaio causa tutte ricade fatto che le dicono che lei è etericamente fuori dalla matrix non lo so cosa hanno visto ma sicuramente non ha senso nel senso che forse proprio io vedo il contrario mi è venuta con una cosa tan vigeri al tecno pratica vita sono se non c'è nessuno avrò trattato niente fa bene va bene hanno visto l'entità mentali c'è viceri stata mentana no le sanno vedere in generale c'è sono stagni e cioè potrà cammina d'off chat allora hanno qualche percezione ma non lo fanno perché potrebbe potrebbero aiutare troppo le persone non c'è mai mai un tema che si può niente che sta un po di saniate ma la nera canta capo spettacolo questa è una cosa che ho dovuto fare in un sacco di mie sessioni che l'intento non è quello di aiutare troppo le persone ma troppo poco ed è agghiacciante al limite già veramente agghiacciante questa cosa ricordata c'è stato faccivo stif nasce che stasera certo tecnici di scratta me per tosse ogni stanza bar da pomoz fatevi delle domande sul perché di questa gente esiste sul progetto ripeto le spazano fatevi delle domande su perché esiste questa gente e se c'è dietro un progetto ok tutta la sapetà risate che sarebbe tania costa isate luci mi è stati mia sapami c'è tome che si proie che si usa una stanza un gruppo elenco di esperienze di elena che ha fatto elena dimmi solo elena si hanno portato delle interferenze velocemente quali e o niente tratta trasa con il suo capo di che ci affette lasciando nale potente stessi a istitato e anche oponopono sto per dire proprio quella che è quella più significativa ma netto fatica la sateros la pratica che io ancora non aspettava calano perso il capo no po no ha aperto un canale importante di di risucchio dell'energia pratica fofo no po no cosa la parte di stock nel bar dopo farne canna visti così off se fanno i enerchi e continua a rimanere aperto grazie alle interferenze mentali e posso stai attaccano a farti c'è in chi è stato aumentando e allo scudo energetico in cui è bloccata i rovni a sistema stampante sa poco fanno trasmina di sembrano poco ok dei famosi workshop dei workshop condotti da famose persone in polonia dopo il quale si è ritrovata al posto del terzo occhio tre appuntini un renato con lei non pratica che però già una cosa faccio da far state sperano un pane a un youtube cana opani in granizia panita scala canalisa che sta lasciaranno attravesse i bucci lasciare una parla con gli astri contenta che crocchi nato l'estate triconta e pova fa niente questa famosa persona fortemente interferita lavora per collabora con i potenti del deep state di ora da mani ma guarda c'è una interferenza e sbarghe scende proprio sanago e prato e la la tip state fa sì che ci sia un canale dove avvengono delle abduction durante la notte parte cana auto porre fania luci stessa nozze dove vengono creati dei canali tra partendo dalla dalla ghiandola pineale della persona e passano attraverso il terzo occhio e sottina nel canale per poter trasmettere delle dei comandi e delle informazioni per convincere le persone a cibaccarsi abbia questa canale mostra questa che mi sto c'è tecnica che commenta perché lo scaso a pescogna cito tago a ben bravi e sto più orca bio terapeuta che contatto sbiotera portami rovnias moriva ogni non calano dipende dai dei momenti ci sono delle delle sedute che aprono dei portali data testa la giocca la concreta la propria patco sono una cosa io ho fatto partita partita portale cameronias ne vedo invece altre dove vengono dati dei consigli delle sostanze naturali da assumere che sono neutri alla fine musa che separate che c'è tanto caso mi imbraccia che ci sono però una sostanza il tempo pacco test notran tecnica per guarire se stessi con la tecnica loggio girare se stessi girare su se stessi tecnica paolo cajon sana cranzani c'era cofa stiamoci come i tuoi interviste non so cos'è ma quello che vedo è proprio anche quello non va bene perché crei proprio fisicamente apri un portale energetico rovnias stancia pacco video satonia per posa terna bovas né crenza scelta attacchetta che vero e poi potremmo farci canna un'arca tecnico vendolino limiti è potenzialmente tutte queste cose potrebbero essere usate in maniera neutra ma ci vorrebbe una completa consapevolezza quindi una completa capacità di comunicare con anima con la piste c'è riaxar satan sapato come fa fresca tecniche moco e tacca prova invece un po setterna che deve da nostro bar mi ha fatto una ponte a nese si fa un passo un mondo show quanti ci riescono nel mondo in questo momento io lo io ma si fece l'ugita che cosa stani c'è stato pratica 203 ok pendolino vaffa d'euco allora primo crea un canale energetico o più o meno forte seconda della anche della domanda e totale terza la nostra spettania ma ora portare la foto cercano e secondo le informazioni che arrivano sono quasi sempre interferite ita informa sectore tam po tam sopevai on top sovasne non trova la sua santa interferenza mi al posto del pendolino potrebbe essere usato un semplice test kinesiologico zami a steva hotel kadovre punto che nasce test kinesiologica ma sempre che la persona sia comunque centrata e consapevole alla varon che mi è stata etapa tata o sa proprio a fisica doma e non interferito in interferenza ma proprio al testa posto bene rapidissimamente elenco infinito di problemi e fisici causa esoterica e terras duca list ha problemo fai trovato ma insonnia grave scena bassa nostri miele entità mentale di livello 6 tra i tavsi stata menta al nato prima facciamo soste con le mie gambe tantra plan di snagami lo scudo energetico che la circonda età tartaner tecchino grave micrania che porta anche al vomito migrante remiata mero flash allora il l'impianto che a livello cip itale tanni in plant 3 è stata il tetra e ci testi carco basta a cuffie ne sono quegli impianti che a livello della colonna premandano gli impulsi nelle varie parti del corpo oggi a te in plant e crea soft con soppi potente se vogliamo segnale torus ma crescita ma voglio me all'occhio uguale tempo a blancho chiamolo finisce un po' tornato tecciata nasata retno a chi cardia tachicardia problemi sterza uguale intero finisce loro però finisce stato franco sapete in plant viscica pass no quello allora è più una cosa sua emozionale tutte le parti che oggi a questi emozionano la tipica cosa di marcare il territorio tra virgolette attacchi a sbattane territorio che è aumentata dalle interferenze delle entità mentali intensifico questo temi sta mente al nemico per posto ok basta libido e problemi sessuali mischia ribida e tenta la natura sexo con noi un pianto all'utero tanni in planta faccia freddo e puto 16 minaccia un qua lo scudo energetico tatar channel c'è una facoltà quando la energia uguale gli scanner chiaro quando lei cerca di centrarsi e comunicare con la sua ps riesce ma poi le fan le provocano questo sintomo per diciamo farla desistere il momento che danno avanti se propone se vuoi due show da ricetta all'onipote mo già vuoi un anno la stessa corta e ottocciani a io notte godless ok testa pulire la testa problem scova un po la cuova adesso sono aumentati da questo canale che le hanno creato dalla pineale verso l'esterno questa stavano smorgon parte del cannautro ma felicità un posto ciavaco però sono collegati sempre all'impianto che a livello occipitale alla stampa montana ma è un po che non sanno sosta in planta muscar con dolore al terzo occhio bollo facciamo con il canale della ghiandola finale tank a nostri nasa un grotto avanti colonna vertebrale su 5 crango sono gli impianti che ha stata in planta muscolismo partito alla ciocca corona totta che nemio tutto c'è pronto taxa corona questo è sempre il fatto allora questo questo scudo energetico che hai quando lei cerca di di fare il suo lavoro energetico per centrarsi lo sente sente il sintomo lì senti fa so totta tartaner che c'è una vasta come c'è che da una propria c'è pronto c'è la massa vota fisca in prato nel cattacione con noi è tostate in tenere mio avuto c'è ogni tanto vedo proprio come se lei quando si c'entra riesce a fare un passaggio di energia lucente su tutta la parte centrale del corpo e quando arriva a portarla qua è come se avesse come se interferisce con lo scudo quindi lo sente ci crea una scelta che c'entraia quanto l'iniza massa con utai c'è per portarete che così che ha trovato una cosa non c'è una cosa che trova c'è avaiano d'accordi tanto tocco fanno giusto tartanerica del blocco professionale bassa autostima pochi soldi succedendo stata lecina bloccate stico geosferesa vadovo un problema economici nato allora quello lì allora fa parte del programma di blocco del blocco energetico che le hanno messo intorno al corpo quindi ma con ma tazza la casa che sta un bloccato un stampa c'è come se dalla nascita la sua energia deve rimanere dentro a quel perimetro non può andare oltre a shot sama coro zania grattari in archiva francese non si può soltare che le tre interferenze mentali fanno sì che questa cosa sia sempre c'è venga mantenuta così il testo è stata mentale il risultato anni mi ha spattato su me fai anziata sta con te costano negato il nego a sto guscio questo sarcofago quando è lontano dal corpo quanto spazio le da dieci centimetri non è proprio vita sì così tanto così ok due settimane per una luccia 80 in panza c'è parte di stabilisco ciao ai tampo casa va all'anno smalutco ok quindi tutte e tre questo soldi autostima lavoro c'è link che nisca che la sceglia piene onza ita bloccata sabato ha fatto amato non bisogna stato ragionato la parola del programma che stai stante con il proietto tutte le cade l'impotenza perché altro segno emozza impotenza anche se semplici nel fare le cose ma bella sempre adesso di colpa o c'è parte fine per prendersi carico degli altri quella il controllo se c'è rimasto settembre a me non c'è questo incontro lavagna non c'è scherzo a sapere il marito vento lo volevo di chiedere dopo è la stessa cosa se l'enchi o ma non sai tutto è pronto potermiato siamo con città con l'evoluzione la stessa cosa torsani e rosa via c'è passano qualcuno a cui si rivolge in passato le dice che lei porta il peso degli antenati vabbè questa monta con città città suosti e progete via la mano sappia la certifica nasce vicino salta un carmero dopo noi siamo io gli antenati e il peso degli antenati non serve a niente come gli stessi miembocchi amiche creatora amita con la propria testa che via via raffa usato stanno nascendo ma lo smaccio noi siamo dio noi siamo dio noi siamo dio ma è un po bocchia porto zona c'era sa metterlo tre volte fai in merito ma io stessi miembocchi amiche stessi miembocchi e gli stessi miembocchi in quasi tutti punti meglio qua sono più bravo su due punti il dobro di in cui a vita ma evitame l'aname e si scrive vita leziane di polacco dopo dopo va bene tantissimi punti troppi punti le cose queste cose la fiamma il marito c'è morto brisca un po meno no no fine con bris compratto show ma no 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 io vedo sono tanto simili tanto complici ma non è una cosa animica son parto da serata e padoni alla vita tutto tecnici spontanea niente toshami è interferito la mosma interferenza se si vuole venire nel cinema c'è questa nostra cocchina potrei osserva faccio sì 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 ieri cosa si volentieri chiamiamo i due genitori e se c'è cioè se aveva una ps l'aborto da giovane l'aborto aveva una ps l'aborto ma con lo scudo che gli hanno messo per lei non era cosa alla cosa stontar c'è trontami un vestito in attenziale è stato una cosa non ho capito elena ha avuto figli dopo per anni e lucia c'è mia vasto margici po tanto parogliano a casa parte che lo è e noi non vediamo il foglio quindi l'hanno bloccata da giovane perché perché era più forte il guscio sì esatto esattamente da te l'esastava tutta poco fa netta persa parola niente sotto scusca c'è un sapone va stata tarta può parte scelano state una pochino diciamo che lei un po di consapevolezza nel frattempo l'ha presa alla nostra santa e sciata ma già troppo ai genitori e quindi un pochino è come se era più spesso ed era più intensa informazioni erano più intense e quindi non poteva proprio agire ma man mano nella sua vita c'è una pochino che equitatta tarta group site e informazioni sapere su cocire guadagni portani già vasta che perciò alla porta ma questa scelta smiscio man mano e la sua vita lavorando su di sé in qualche maniera un po di consapevolezza la presa e quindi ha potuto avere i figli alla stessa impazionata sabato sbaglio tra mesi rosma e c'entrata ma potamo 10 mi mosca ok tutti e tre vogliono dire qualcosa a elena c'è stato a trovi carta si può vede ci farà niente ti ringraziamo 5 mc stai facendo un buon lavoro hai fatto un buon lavoro se canova stavano la porta adesso poi lasciarci andare facciamo da soli per ha sposato una nota e scelta messa per a testa mi puoi liberarti del nostro peso ma ciò fanno in chat c'è un sarò nasce lo dice ma le quali altre figli ha pensato pensato i due figli e la porta io ho visto stavo parlando di loro ma va a poter un po ragnano ai figli e non sono morti no 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 certo no no ma tu parlavi del discorso di preoccuparsi degli altri attaccato motivato a ceci poi una separata mark marcia in caso pescini martirò ma proposta sarebbe data orata allora non riguardavano figli e il marito nel cinema l'aborto e i genitori come disinfermati cioè 10 moschef che ne dà lei ma metà sto ricordo di sua vita appunto ad usate con paronia neanche a casa smarva chiama i genitori e vediamo se hanno qualcosa da dire e intanto apriamo il brutale aureo da terra s'apposce che croci sto spettacolo dopo che genia io faccio mi pianta c'è tanta svolta e porta dicono in coro insieme muoviamo chesterosa ancora grazie 5m sei tanto bella così gli spiega gli spiega gli spiega gli spiega gli stessi vai bene così chi sta scena da sconovata carica e stessi ok portale aureo via tra riservate portali smarli a trozo che siamo entrati tutti e tre si è chiuso stavanti a porta benissimo tanti tanti troppi punti scusa lo stiamo a chiedere collegarsi alla madre terra una pratica abbastanza popolare e ma se la stessa cosa va bene con le gas e la madre peter ha portato dei problemi o dei vantaggi e non a elena non ha neppolo che si apre una pratica che diceva un tema smat con cemio in tutto il terzo a sferano son cannavero sono rossi mi ha sposato profacità russo inizia caccia anzi apre un portale molto forte di risucchio di energia proprio a parto a parto c'è una partita che porta noti che era né stessani energici si c'è un tema smat con cemio una pratica spiegata nel certo modo eccetera invece andare in natura camminare a piedi nomi il radicamento a no perché qua poi partono i commenti su di me se ricordi tutte a tante che ritrova contano si è buona quattro cosa ne aveva nato usano spazzare una posta testa scocca e raccoglietto come vedo che ha tenuto che ritrovato si sia un tema smat con senato ma che si pratica il programma io voglio perché devo andare da uno che mi dice cosa devo fare capisco e stia il tempo che è un portato che non si è sceguita parte che cosa abbiamo mezzo e mamma piccina rosa mente no necessità mia mani amata che faccia il bambino abortito e i due genitori sono andati se si atteggiando portare aureo troicato spazionata portano la smart ok vibrazione vibrazia ha la nè 850 mila o scienza 50 cento di scienza e accentuare di consapevolezza poi siamo cercata mostri da 80 per cento o scienza però tanto e se pie non roma vagamente tu sono mangiata retina ps al 27 torsata di società tanto e precedenti va bene precedenti 2.679 fateci anza 60 centi centi questi numeri tv ti vengono così che arrivano così seri di i vedi credo scritti si è certo e rileggo tra l'idea per posto su foto ma vici e poi questa cosa pisano elano settuali di cervello utilizzata poi c'è un progetto usava nostri mosco sette e mezzo ok questi valori vengono dalla ps di elena ci ritenete far tosci un po tagliaci torsa alana o dal fatto che lo sono c'è proprio no lo sono in che senso arrivano c'è cioè perché una delle domande le domande più interessanti di elena è perché lei non non riesce a parlare con la ps e tutti invece no poi ad un spunto fatto che spominava che lana voto sono signori ogni stani vuoltre ci sono lei lei è in grado di parlare con la ps ma quando lo fa non si rende conto che lo sta facendo una po tra fish e pavonte ci si fai un dosso la mancetta robbia e benigni si fata amata con ist quindi stai sapesse che spravesse ricevuta o pontanea e questi sono i limiti che gli mettono le interferenze per far sì che lei non ne volva nella sua consapevolezza tutta che la secolazione graniccia netto la nostra è una vita è stata mentali a certe interferenze agonia con agonistra stava cambiate che potuto ciascino molto va bene gatti casa li vediamo alla fine il problema dei tanti punti e che adesso spiego è che appunto alla fine dopo averli trattati tutti altrimenti mi si viene a dire che non ho trattato la tecnica per collegarsi a madre terra non fa non ci dà la possibilità energetica il tempo e l'energia necessaria finale per vedere veramente quello che è importante nella stacca che descreverò truciata cosa mi spazio punto finito so che non so che è una trattata stampa minorismo attacca parte da con la stessa cosa che sono prate di stato in questo caso i due cose le due cose più importanti sono le entità mentali e il guscio standa patco concreta è stata tarcia ora stai stata mentale i soliti capi entità ma soprattutto questi siriani che non sono tanto frequenti stati attaccati a parto come si chiama il progetto controllo definitivo definita una controlla questo controllo definitivo è destinato ad alcuni personaggi nel mondo c'è mano profondità che misce lo so visto stiamo cercando di metterlo appunto su un po di soggetti per poi loro obiettivo sarebbe sì esatto c'è una potenza che stiamo costruendo gli spini perché io so va spesso queste persone chiedono una sessione o casi molto simili a questo già state lo so ma non c'è stata croceo petani hanno stessi questioni a misteri una domanda allora se riescono a cogliere quella boccina che la ps riesce a mandargli loro vanno vengono a fare la sessione in maniera tale che si possano liberare di questa cosa c'è riesce o lasciate ma sapò un spesso è stato angosci che c'è che tu scettora appena qua nel conto facciata fatta non sono tanti perché si fa molta fatica con questo guscio ad aumentare la propria consapevolezza niente che è una griello poi ne fa la tarcia e spartano scelmante interferenza ma la mente mi in casa potrebbe sapere e quasi clienti ho avuto il cliente of me a van 56 15 centi o sesso ok di cosa è fatto il gusto è un impianto sta con la nata tarciata l'implante e teleco l'intera l'asena mentale sospetto che sia un impianto mentale vai amante che vuoi rasagna cesta in plant mental si è più simile esattamente alle interferenze mentali perché vedo proprio come se fosse una come se fosse una gomma diciamo potrebbe essere paragonata a una gomma che circonda tutto il corpo ma è fatto di informazioni di dati fact e ci ne occupa per una cosa in plant mental ne poi ne va rifiutata come otto ciao alla squadra c'è una sinformazione stanna che a chiesto è un impianto mentale quindi c'è resta in plant mental impianto mentale non è puramente mentale proprio è una cosa che hanno fatto che fanno assieme che fanno assieme i siriani con le entità mentali non so niente con sa in plan mentali all'estate storia spolgne totale cisteria niente sistema mental nemici sa quelli gioca se lo facessero solo i siriani non durerebbe se lo facessero solo l'entità mentali non durerebbe robirli toglie tegne seriani e toglie buon appetito che ti fava ora si vede tra più e per con gli stati mentali è dato a cinema per tasto che fa voce con margaret ranta rasa ne avevi mai visto uno prima c'è fissato una carta nei no va bene lo volevo dimmi dimmi sì prima ho visto mentre analizzano questa cosa ho visto una cosa che secondo me interessante alcune persone che hanno questo guscio anno come se l'energia la loro energia le chiusa nel guscio fosse più forte quindi riesce a contrastare un po spingere quindi riescono a davvero un po più di consapevolezza vita che c'è una città che la vedo proprio più luminosa invece ad altri più scura quella che che ha più forza diventa sempre più luminosa e riesce ad assottigliare un po il guscio e togner che avviene che stacca biazni e show in ita capa di scassona i città mai autonocchetta consigli i canner che ha fatto la barriera stacca trascaccia in sarobis e quella che è più scura invece diventa sempre meno forte e come se il guscio si spessisce sempre di più a rischi e tainer che avrà non c'è stata capsa tommiona spargisce lo spapia a tatar che si smazza cosa vuole fare elena fax tra pc calena in questa sua sessione sesta sessione della vita e ultima state totale dice il sosta io sta nei sessi vuole buttare via tutto che conosce la sua ps la sua ps hanno hanno capito l'occasione d'oro in cui sono capitate c'è tu sai c'è la terrestre non sappiamo sapere su tutte le situazioni stacca che i toglie dopo essere trovati il tema mancia se la ps dice meno male che si accorta del del messaggio che gli ho lanciato attacchi torsata la spaventava ciasci ciasc'è una occupa che ci ha trovato un piatto ma sicuramente era l'ultima occasione che aveva ho stata una costata quasi a conto tornando stava andiamo al cluster poi c'è metterla sta castra strano perché vedo come se tutte le vite fossero dei piccoli velieri indegno vita scherzetta poeta che amava e trafina nasa club che come se lei fosse una collezionatrice di velieri indigno gli avevano e collezionata con la collezionare comico e ogni veliero corrisponde a una vita di carter snick al proprio attacchietta mosso qui ci sono 2.679 velieri c'è rivesti che state santa sceglie 70 centi event grandi a seconda un'ectora lancia un'ectora fianco lasciato fanghi una alta importanza delle vite se lasciato due costi e cioè facciata nago ok cosa ne vogliamo fare di tutte queste belle barchette tazzo tra vienesimi fraschi mi pink nemico cami ma per un portale definitivo sta lanciando dentro o sfera porta al definite venite che contract sanzana sti musici amici da un tanto scirocco tanto semplice andiamo all'avatar abbiamo aperto posta i trascimenti avatar a come li vedi tu non hai visto la serie la vedi come li vedi come nella serie ea che fisi avatare che gesta che tanto il serialo di costa realo mi ficcia sulla base della mia descrizione una postata che ci provocava se sì esattamente se tac tac da quadri e pacchetto diciamo che li vedete in modo di volta in volta differente a poter scegliere un talapaccia invece che vederli in una stanza quadrata emessi tipo in righe io li vedo in un enorme spazio semisferico disposti in cerchi russi limitante la pace in e cosa vita non scopo coi a la navi che con gli steps segni sono tappo gruppo fa questa che ho crenghi con la vista verso l'esterno o verso il centro del gesto il centro solito chiamano una bella scirocco attacca nota cocrango il centro c'è qualcosa è vuoto a centro un teco dei processi anita c'è sposta il centro è abbastanza stretto ma è come se fossi diciamo il passaggio del passaggio energetico che poi va nella mano 30 30 c'è stata che sbargata che vonskine fiel che ho leggo e tampota che data che c'è stata che cana autore digitale matrix a come se fossero i computer coi cavi e cavi cavi esatto esatto che aveva voluto a computer scavlami tantita capa ma poi se vogliamo questa è una visione simbolica non vuol dire che da qualche parte c'è un fantoccio è una rappresentazione così come la stessa rappresentazione dell'entità rettile che semplicemente probabilmente un energia energia che esiste ma che il nostro cervello processa come rettile 8 viste metodo la sua mamma messe simbolica tonista sotto tag da quattro inizio quattro a capite la mia smette di vigile ancora peteria tratta protesta questa forma energetica informati 3 4 1 st accosta sapete un marzo così rispondo alla domanda che mi fanno spesso ma i rettiliani esistono davvero nel fisico e io rispondo chi se ne frega esiste un'energia che noi identifichiamo come rettiliana si quella esiste ogni cosa ogni petaia non c'è fa che c'è ora per gli anni che se ce ne ha la tecnoproteca che tommas la ciania metto ai vigili metrò questo giocamato energetico rettoliense con i passi a ricettare si fa una persona fisica questo è un gioco deve avere una pil se non ha una pil non è un gioco divertente e la pil e dare una forma un'energia se vedessimo solo delle energie magari siamo anche fortunati e hanno dei colori diversi e quindi possiamo distinguerle sarebbe più noioso dare una cosa è sì nella luce a pil a ok ok in grattura musci media che sta attrazione professionalmente ok luce continua se avesse se fossero solo dei fumi di energia sarebbe un aspetto dell'antiliano d'amantide più bello ma che per grattaccia c'è anche per profiterciato che ha traccato il calcio ma non è che sta dentro ogni volta che attrazione totale gana svenzi un mese potente ripeto una rosata che cercava elementi tomate reptiliani e tamoro sua forma cercava che cosa fa dell'avatar è stata robina poi c'è mi avrà l'ha aperto un portale definitivo lo sta lanciando dentro ha fatto la porta al definita nel risultato con scala andata che portano ora l'ha chiuso chiedita la stampa ma porta ok ci sono le entità mentali ancora no c'è natale stiamo è stata mentale ma che coi e che cosa che odino siriani con la coda amanti di felino ma dei dn amanti dei felinoide impianti noten seriani statamentale implante il guscio tarcia no posso descrivere cosa vedo quell'energia di prima che adesso a raggi spazio ovunque tra i tecote target e copanze a rosni e matera la visita un'energeta con scelta di stanco però scelta fu un estac per scelta tavoli postage sta aumentando la vibrazione senza la vibrazione ok aumentiamolo con la pillola v di vibrazione gli italiani sto parte non si vengono sapono tante i picocchi sauvano e con casi brazzi non c'è un limite per alzare la vibrazione questo contiene l'informazione che contiene la pillola e in formazione a casa parta fai piccoli ma vi c'è mi amata la parte granizza da che mostrano le brazze lasciata sì sì è arrivata 10 miliardi e adesso si va più coca e lasciando una trasse vibrazione di 6 miliardo e accentuale di consapevolezza però tanto possiamo cercare mostri 130 per cento stati registi però tanto psp e roma vacamentato sono ad hocam la ps è andata a 73 e la p e a 27 odoro ci vuole c'è terratto a ciao a 3 cina parisciano ci sono invertiti sì perché nel momento in cui è andato via al guscio l'area ha sempre vissuto chiusa diciamo che nello spingere il momento in cui il cuscio è andato via in questo momento ha sprizzato quindi molto ps ogni fascia che tutta la tartare segnavo a totus a prova sono tanti serocco e fomenti attarci stavolta niente trovano stusso ex trattava la tenata con tu fai terrasse è probabile che questo effetto diciamo un po così durerà quattro cinque giorni e tanta che affetta che c'è nel terrasco potremmo stare principi con l'energia e poi si riequilibreranno apposta in stampa roma vacca tritucato parigi coppia santa quando capito precedenti l'ipage c'è 937 g event suggerisce ad un terzo poi facciamo sminisceva erano tanto legate al guscio parta via la stessa cosa si sapeva che passano sta un parto era piena di impianti mentali la sua storia di vite parallele devo parta via la impianto mentale che si adesso che me lo chiedi vedo che e li spostano parte del programma per una certa diciamo contratto che firmi nel cluster delle varie vite spostano gli impianti e fanno i vari collegamenti per vedere le differenze c'è tra la scelta 4 con c'è avuta soft class service e con l'interessa con c'è nato sui mesi a mi intanto sui mesi a me questo mini a un tappo montagna terrasse giocato parezza mangiata ok alto rispetto a questa cosa degli impianti nelle varie vite c'è sempre a livello di della parte genitale genitali interni quindi utero o prostata seconda se uomo donna poi nel li mettono sempre a livello della colonna vertebrale più o meno e poi li spostano a livello cerebrale c'è la sua quattro anni plant ma c'è poco che doveva ma stai snotano su cosa prostata c'è da poter successo fai un god a linea psacoat la qualità con il suo papà con un stradale fa qualità con te e confondano i dati così i pari noi ho stanzi passo per la rossi iniziare da netta pigli e marito sono ancora nel cinema che ci è in morsa una tappa shankinia ok prenderanno le informazioni che vorranno davvero saper informati stante che vanno uscire la pulita c'è dom ha la nesta se gatti tac cote anche dl tramite che sia quasi stata scritta scota uno con dl uno con due dl scelta scelta di scontro che cotta ma definito di città e l'anania sperma il coat of ma helena poca sono formazioni ai gatti così se li tolgono cotta stai o informazioni sapevo sono fatto se hanno presa ok di visti proprio andare via il nome posso dire breve messaggio finale cani agressivi non vogliamo cani agressivi dal vicino ma più punti da una con il farmazia atto scelta la halen agressivi sono dei vicini quindi vicini l'antraerenza insomma il caso una fetta di si dice in italiano anche noi siamo già extra tempo massimo e elena è stanca quindi il messaggio finale che è fondamentale della ps se a crescere ne va portato torni e facesse mai un'interferenza e torse bene la testa finica cita la svars net potere svolge in stato fai tolto la casa d'usso i doh alla halen tutta la ps dice che cercherà di mandare messaggi sempre più spesso e in maniera sempre più chiara non saranno messaggi ma vabbè dobbiamo vivere bene tra casa e faccio informazione che si è avviata mostri a casa a legno sposo per lo spazio di testo il barcese che lo snagg ma i messaggi saranno magari anche degli indizi ma conto per tutta via da mostri ma conto queste che trova una scosso fkina scuota lei quello che deve fare è stare sempre cercare di stare più centrata possibile e cogliere questi messaggi tazzo non ci troverà questa piaccia per centrovano a vicino che fa mai questa raccetta sulla ps versò che la sua posta io ma bevo da presto in formazione autos dice di provare a delegare parecchio come esperimento scusare patrilano e le gare dare ad altri ha compito di fare delle cose ok in unica città che fanno di in europa citani vedo vedo un albero da frutto non so se c'era in giardino non lo so ma vita che si diceva forza vani e cantono ma che si diceva forza croce quello è un posto dove lei può andare da sola e ricaricarsi energeticamente io sto mi dottor economico ci stanno avuta faccia petto ma che facciamo energetica vado a far scendere la cazzo solo basta ok la vedi bene si la vedo adesso la vedo con un paio di occhiali che prima non avevo non aveva non è più schiacciata e longi linea per la sveglia in attenzione successi trattati anni esistica c'è una città testa che non normali normali posture vedo zona ocolare sopia e la vedo con una felpa viola i est ma non sapete che che ci fu terco c'è costa conclusa color fioletta vaga dice questo colore mi si addice molto e mi aiuta a essere centrata mi piacciono ancora parla domni e passo via i pommosa mi stanno trovando c'è sogno c'è fissere la psa